Io ancora non so se parla a titolo personale o che non mi risulta che abbia al momento ancora una delega, quando formalmente avrà una delega, se vorrà discuterne come bisognerebbe fare tra persone che si occupano di istituzioni, io sono disponibile, ma devo dire che se non ve lo diceste voi non saprei nemmeno quello che dice, per cui va bene così, ma non mi sento ormai di rispondere sul punto, a meno che ci sia un vero rischio di creare danni per la nostra comunità.